buona giornata amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 9 marzo 2022 ben trovati alla rassegna stampa di fano tv come sempre questa mattina apriremo i giornali il resto del carlino il corriere adriatico sulle pagine di fano sulle pagine locali della nostra regione vediamo subito qual è il santo del giorno e troviamo una santa piuttosto nota è santa francesca romana santa francesca nacque ovviamente a roma nel 1384 nonostante che avesse l'intenzione di consacrarsi a dio fu obbligata dai suoi genitori a sposarsi e sposò il nobile lorenzo ponzani fu una moglie comunque esemplare condusse una vita improntata alla preghiera e alla mortificazione ebbe anche dei figli il 15 agosto del 1425 con nove compagne si offrì come oblata alla vergine nella basilica di santa maria nova al foro appunto a roma dovete sopportare durante la sua esistenza diverse sventure familiari fu comunque favorita da dio con il dono della profezia ed ebbe molte visioni del suo angelo custode santa francesca romana ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo vediamo che il sole sorge e sorto questa mattina e sorto questa mattina alle 6 e 31 ed è tramonterà alle 18 07 il tempo si mantiene stabile e asciutto sulle marche con nubi sparse al mattino e nuvolosità in rapida diminuzione dal pomeriggio il clima però rimane freddo le temperature oscilleranno da una minima di 3 gradi a una massima di 9 gradi il vento spirerà sulle coste da una direzione di nord nord est la stessa spirerà sull'interno ed ora apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo l'apertura che viene dedicata al giornale a questa città si parla del caso saipem il caso saipem è una situazione critica questa di questa azienda milanese che ha una forte dipendenza nella città di fano di cui si è parlato ieri in regione monitoriamo la situazione ha dichiarato l'assessore a guzzi in risposta ad una interrogazione precisa che ha fatto la consigliera michaela vitri del partito democratico ad oggi dice a guzzi non c'è nessuna notizia di ridimensionamento si attende il bilancio del 15 marzo prossimo quindi tra alcuni giorni al momento non c'è alcun rischio insomma però la situazione viene costantemente monitorata l'azienda il problema è questo l'azienda sta anche realizzando gasdotti provenienti dalla russia siamo pronti ha detto a guzzi a scenari imprevedibile tutto ciò che viene dalla russia in questo momento è in pregiudicato e vediamo quello invece che proviene dalla ucraina aiuti agli ucraini 21 fanesi mettono la casa a disposizione è cliccatissima la piattaforma online del comune di fano attraverso la quale i cittadini possono manifestare la disponibilità di alloggi o di aiuti come generi alimentari ma anche genere altri generi di prima necessità l'ambito sociale ha creato a questo proposito una piattaforma si tratta di ambitofano.it per coordinare gli aiuti ai profughi che arriveranno nei prossimi giorni oppure quelli già presenti a fano attualmente in città sono arrivati 48 cittadini ucraini dei quali 18 ospiti a villa san biagio la villa gestita dall'opera don orione e 30 di cui 17 adulti e 13 minorenni sparsi nelle abitazioni private e grazie alla piattaforma online sono pervenute 52 offerte 21 riguardano vitto e alloggio da parte di privati e associazioni a cui però vanno aggiunte le disponibilità dell'opera padre pio il dormitorio dell'opera padre pio che mantiene 10 che offre 10 posti e poi c'è quella dell'opera don orione e quella della caritas le altre 31 offerte riguardano cibo servizi linguistici o beni per i bambini soprattutto il servizio linguistico quello di insegnare i primi rudimenti della nostra lingua è una cosa importante perché poi queste persone devono riuscire a muoversi in maniera per quanto sia possibile autonoma nel nostro territorio il ritratto del ce e il tavolone dei ds sono due elementi che si trovano nella casa dell'ex onorevole lara ricciati a cui silvano clapis oggi dedica la sua pagina clapis di solito ritrae dei personaggi fanesi significativi e questa volta è toccato all'onorevole lara ricciati una intervista curiosa come tutte le altre che ha fatto questo giornalista da leggere sul resto del carlino no green pass multe in due locali l'avvocato smentisce ma la polizia conferma si parla del blitz che la polizia ha fatto in due ristoranti del territorio si tratta della quercia di sant'andrea in villis e del bar hollywood di marotta e qui c'è una contraddizione l'avvocato dice che non è stato elevato nessun provvedimento nei confronti né dei gestori di questi locali né ai danni degli dei clienti in realtà invece il questore conferma quanto era stato anticipato nei giorni scorsi vedremo poi alla fine come andrà a finire questa situazione e non demorde il comitato arzilla resistente per ostacolare il progetto che l'amministrazione comunale di Fano intende realizzare sull'argine dell'arzilla ovvero ampliare la pista ciclabile e consolidare l'argine del torrente con delle gabbionate in più c'è anche il taglio di alcuni alberi il comitato non demorde per salvaguardare questi alberi proprio il momento in cui sono comparsi i cartelli di inizio lavoro e che cosa fa denuncia tutto alla corte dei conti e dice noi ci legheremo agli alberi per evitarne il taglio e quindi la demolizione dopo tre anni si torna a marciare da diciamo da barchi a Fano è la Colle Marathon dopo tre anni si torna a marciare l'appuntamento è a maggio dopo lo stop covid che ha annullato questa bellissima classica del maratone per la Colle Marathon già 500 iscritti l'obiettivo è 1000 a distanza dunque di tre anni torna questa gara sportiva amata non solo nel nostro territorio ma anche a livello nazionale per il bellissimo paesaggio in cui si svolge la maratona internazionale da barchi di terre roveresche a Fano annullata a causa della crisi sanitaria nel 2020 e nelle 2021 l'appuntamento è per il prossimo 8 maggio ed è già partito il comitato organizzativo per organizzare tutto a puntino e il presidente Montanari dice non è solo un evento sportivo ma è una grande maratona di solidarietà per Avis, Teleton, Unicef e Urukundo insomma anche questo aspetto non è trascurabile e poi vediamo un episodio di cronaca accaduto a Monteporzio sorpasso ardito i bikers si prendono a cazzotti vediamo questo articolo sul resto del carlino che cosa è successo quello che capita nelle strade per la velleità di alcuni passanti uno supera l'altro poco dopo si ferma in una piazzola l'altro lo raggiunge e volano i pugni condannato un cinquantenne i centauri che regolano i conti a suon di spinte e pugni e la zuffa finisce addirittura in tribunale sono due i motociclisti a processo accusati di minacce e uno anche di lesioni aggravate ma solo quest'ultimo è un cinquantenne del fanese è stato condannato ieri a otto mesi di reclusione la pena comunque è stata sospesa passiamo sulla pagina di urbino che cosa fa il sindaco gambini il sindaco gambini cancella l'epoca delle frazioni ci sono diverse frazioni diciamo così satellitari attorno alla città di urbino con la scritta qui vediamo una fotografia cannavaccio frazione di urbino oppure una frazione frazione di urbino questa volta queste frazioni urbino non ci devono più essere gambini cosa fa cambia tutta la segnaletica e dice che la sua città è una città diffusa per cui comprende anche le frazioni che sono nel territorio chiunque arrivi o sia arrivato nel territorio urbinate passando per una sua frazione quindi dovrà essere accolto come se fosse come se penetrasse nel centro storico della città tutto è urbino e questa è una decisione interessante presa dal sindaco gambini tutti devono sentirsi cittadini di serie a ha dichiarato non persone che abitano lontano sulla panchina le frasi antiviolenza sant'angelo sant'angelo invado per l'otto marzo gli studenti del comprensivo hanno ideato e scritto il loro slogan e le vediamo qui una delle frasi che vengono appunto evidenziate sulla panchina appunto della cittadina caccia al turista ma i borghi sono in trincea da frontino a mercata a mercatello fino a borgo pace si programmano già gli eventi di bella stagione la guerra però ha raffreddato gli entusiasmi e ovviamente programmare adesso quello che accadrà in estate insomma si è una attestazione di buona volontà ma insomma bisognerà poi vedere che cosa accadrà invece accadrà bene questa iniziativa che si svolge un po in tutto il nostro entoterra ed è la tappa della tirreno adriatico da pecchio a carpegna i borghi si preparano ad ospitare questa bellissima kermesse entusiasmo a mille per l'appuntamento di sabato prossimo con il grande ciclismo la tirreno adriatico è sinonimo di primavera bello questo inciso che viene estratto dalle parole di gabriele menghini del gruppo rcs ad apecchio durante la presentazione della manifestazione un segno di rinascita dovrebbe rinascere tutto non solo i fiori non solo gli alberi non solo la natura ma anche la sensibilità degli uomini specialmente per quanto riguarda la ucraina e purtroppo girando il giornale sulla pagina di pesaro siamo costretti a evidenziare una tragedia veramente un grande dramma si schianta con lo scooter contro un camion muore a 16 anni sulla strada per andare a scuola sono risultati vani tentativi di rianimarlo l'urto sull'urbinate all'altezza della rivendita giometti non gli ha lasciato scampo abitava a borgo santa maria e stava andando all'agrario non prendeva mai il ciclomotore ma ieri c'era lo sciopero degli autobus accidenti è morto per andare a scuola si chiamava marco ragnetti detto ragno 16 anni compiuti un mese fa residente col papà e mamma ma è sorella di un anno più piccola a borgo santa maria insomma che cosa è accaduto per ragioni inspiegabili ha invaso la corsia dove sopraggiungeva un camion che ha cercato in tutti i modi di evitarlo questo però non è stato possibile e la moto è andata a sbattere contro la fiancata anteriore appunto del camion e purtroppo il ragazzino è deceduto non si è riusciti a rianimarlo la preside dell'agrario un dolore terribile marco frequentava il secondo anno del professionale abitava appunto a borgo santa maria con i genitori e la sorella insomma una tragedia di cui non ci sono parole appunto per dire oltre e parliamo anche dell'otto marzo vediamo niente mimose ma una diffida alla regione non garantisce il diritto all'aborto è una dichiarazione della rete femminista delle Marche che mette sotto accusa l'aggiunta acquaroli per l'applicazione della legge 194 anche questo rientra nelle rivendicazioni delle donne e poi vediamo invece quello che sta accadendo al vl pizza lorenzo pizza 50 anni investe sulla nuova era della squadra di basket insieme faremo riesplodere la passione ha dichiarato è il patron dell'ital service che conferma tutto venerdì con i commercialisti definiremo la percentuale di quote da acquisire ha dichiarato mi hanno chiesto di fare il presidente ma questa decisione è ancora prematura intanto però ho già finanziato l'acquisto di un nuovo giocatore per il rilancio della squadra e poi vediamo ancora sul resto delle carlino un articolo che riguarda la sanità guardie mediche c'è l'accordo con la regione finalmente si sta agendo in questo settore dove mancano i medici comunque per ottenere ottenere attenzione si sono maggiorati i compensi e c'è anche una nuova organizzazione ma almeno per ora non riapriranno i presidi chiusi ne aumenteranno i camici bianchi insomma siamo alle prime mosse le guardie mediche guadagneranno un po di più con una tariffa oraria che potrà arrivare dagli attuali 23 euro lordi fino a 40 come per gli usca mentre l'intero servizio sarà rimodulato e questo un po in estrema sintesi l'accordo che è stato siglato ieri mattina a dancona dalla regione con l'assessore filippo saltamartini bene è il commento che ha di che ha dichiarato che ha espresso marta ruggeri capogruppo regionale del movimento 5 stelle però insomma c'è sempre un però ci si è mossi troppo tardi ha dichiarato marta sul contratto del gas spunta la firma del marito morto una vera e propria truffa che è stata compiuta nei confronti di un'anziana pesarese sotto accusa è un 27enne campano che avrebbe rubato le generalità dell'uomo insomma del marito che è deceduto per la sottoscrizione del contratto e questo uomo è finito ora davanti al giudice e ieri la donna che insomma che insomma è un po è molto fragile non non è molto autosufficiente si è fatta forza ed è andata in aula per raccontare il raggiro di cui è stata fatta vittima e proprio in occasione dell'otto marzo non manca il caso di violenza nei confronti di una donna inferno in casa durante il lockdown condannato per le botte alla moglie si tratta di un quarantenne pesarese accusato di maltrattamenti nei mesi della pandemia la situazione era esplosa è un operaio che è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere il pm silvia cecchi ne aveva chiesti tre mesi in più di pena comunque il carcere è stato combinato ed ora diamo un'occhiata al corriere adriatico vediamo la pagina di fano dove si apre con la situazione della saipem non sono stati comunicati tagli al momento ma pure la guerra in ucraina avrà effetti dato che la saipem ha degli interessi collegati a quel paese e siamo in attesa con ansia per vedere che cosa accadrà ci leghiamo agli alberi esposto alla corte dei conti e l'annuncio del comitato arzilla resistente che non vuole assolutamente rinunciare alla battaglia per evitare lo scempio ambientale così viene definito del nuovo per quanto riguarda l'impatto l'impatto del nuovo progetto della pista ciclabile sull'argine del torrente una risposta dell'assessore agli eventi etiene lucarelli a quanto aveva dichiarato il presidente degli albergatori luciano cecchini che aveva configurato una città deserta e priva di iniziative una ricostruzione dice il titolo strampalata secondo lucarelli si deve migliorare l'offerta degli hotel l'assessore lucarelli replica le critiche del presidente degli albergatori lavoriamo insieme per la ripartenza e questo un po l'invito lasciamo stare le polemiche dice lucarelli cerchiamo di collaborare insieme per risollevare la città abbiamo di fronte a noi ancora la pandemia abbiamo la prospettiva della guerra non la prospettiva ormai la realtà della guerra in ucraina e quindi sono problemi questi oggettivi che influiscono anche sul aspetto economico della nostra città e quindi lavoriamo insieme per cercare di vincerlo quando l'impegno in città e donna tre volti non di rado controcorrente il quariere adriatico evidenzia tre donne tra quelle insomma che animano l'otto marzo tutte le donne sono state oggetto di attenzione nella giornata di ieri ma queste tre donne sono tre donne esemplari ovvero tre donne che nel loro settore hanno si sono evidenziate chi sono sono l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità fabia o latonelli che è una delle più contestate della giunta però lei dice quando uno fa ovviamente trova sempre qualcuno che la contesta io amo la mia città e cerco di curarla il più possibile e poi abbiamo Maria Flora Gianmarioli che è presidente dell'ente carnevalesca un'organizzazione veramente importante e complicata quella di organizzare un carnavale che costa tantissimo circa 6-700 mila euro e quando questi soldi poi non arrivano perché magari i contributi da privati o dalle istituzioni tardano è la presidente stessa che deve fare mettere la firma in banca e dare garanzie per i soldi che dovrà poi prendere in anticipo per pagare tutte le spese carristi compresi insomma sei anni di intensa attività da parte di questa presidente che è la prima donna che presiede l'ente carnevalesca e poi abbiamo Vincenzina Turiani la passionaria della politica non ha ricoperto nessun ruolo istituzionale né amministrativo però è una di quelle che pungolano senza peli sulla lingua per quanto riguarda i problemi della città è stata famosa la sua battaglia per il restauro della darsena borghese per il ripristino del suono della sirena nel porto di Fano insomma tre donne, tre donne, tre volti non di rado controcorrente per quanto riguarda poi gli aiuti agli immigrati aprono le abitazioni ventunfanesi in 52 sulla piattaforma dell'ambito le registrazioni nel nuovo servizio di nuovi comuni a favore dei profughi ucraini e qui ci sono appunto un resoconto di tutto quello che la città di Fano sta facendo per aiutare chi si trova in difficoltà a Fossombrone c'è un batti e ribatti tra l'opposizione e la maggioranza per quanto riguarda l'opposizione il capogruppo Fabio Londei di prima Fossombrone, già candidato sindaco evidenzia come ci siano delle incertezze, delle dicotomie per le dichiarazioni che sono state fatte sui lavori pubblici insomma sembra che ci siano lavori per 20 milioni poi questi 20 milioni vengono ridotti a 11 milioni insomma ci sono cifre ballerine e quindi Londei chiede a Michele Chiara Belli chiarezza per quanto riguarda gli impegni finanziari dell'amministrazione e vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di semafori con le telecamere ai semafori arrivano le telecamere occhi puntati sui furbetti del rosso quindi attenzione è stato autorizzato l'acquisto dei T-RED il sindaco Olivetti, la polizia locale non può garantire un controllo costante sul luogo e quindi si ricorre alle telecamere è stato autorizzato l'acquisto di questo impianto che rileverà i passaggi con il rosso solo in due direzioni nel semaforo tra via Sanzio, via Cilea e via Zanella solo per i veicoli che transitano in via Sanzio e da nord verso sud le altre direzioni resteranno libere e per quanto riguarda l'impianto tra Viale Mercantini e Viale 4 Novembre solo però per chi transita in quest'ultima via che verrà sottoposto a controllo quindi uomini avvisati, mezzo salvati ecco, a questo punto vediamo la pagina di Pesaro e vediamo quello che è accaduto a questo ragazzo che è morto appunto a 16 anni di cui abbiamo già parlato parliamo anche di sanità la burocrazia permettendo accoglienza sanitaria pronta a gestire l'impatto dei nuovi immigrati una delle prime necessità di questi ultimi e quella della vaccinazione si attendono tanti, centinaia forse anche migliaia di persone che verranno nel nostro territorio ancora il numero non è stato definito anche se si presta la massima attenzione c'è comunque una emergenza ucraina tra assistenza sanitaria e richieste di aiuto che continuano poi ad arrivare nel territorio c'è stata ieri una seduta a fiume in prefettura allargata ai distretti sanitari di area vasta 1 e del dipartimento di prevenzione per organizzare le vaccinazioni perché poi occorre tenere sotto costante controllo la situazione sanitaria che già ha mostrato dei segni di aumento per quanto riguarda l'attenzione e la gravità dei contagi rispetto ai giorni scorsi il mercato della generosità 50 tonnellate di cibo e abiti la protezione civile ne destina una parte ai territori di guerra e una ai profughi e poi vediamo una notizia di cronaca l'aggressione nel piazzale dell'aeroporto in cella per 51 giorni assolto dopo sei anni ed è una via crucis che ha dovuto sopportare il pesarese Gianluca Oliva che è stato messo in carcere senza un perché bastava guardare le telecamere per ottenere la soluzione la soluzione che purtroppo è arrivata dopo sei anni insomma un caso di mala giustizia che insomma ancora percorre il nostro territorio qui vediamo ancora l'articolo sulla guardia medica un infermiere smista le telefonate mancheranno altri dottori l'avvertenza è nazionale lo ha assicurato lo ha ridetto ancora una volta l'assessore Salta Martini e poi vediamo ancora l'operazione finanziaria nei confronti della Berloni speriamo che la produzione resti ma la Berloni al momento non c'è lo spiega Longrano l'azienda è dismessa senza dipendenti e con macchinari obsoleti si deve ripartire da zero ed è quello che intende fare Alex Wang l'ex socio che ha riacquistato l'azienda nel corso dell'asta ed era l'ultima notizia chiudiamo i giornali vi annuncio soltanto quello che sta rimuginando la vis dopo la sconfitta dello scorso fine settimana vis dopo la gara perfetta arriva la botta in testa ed è un momento di riflessione e con questa riflessione noi chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento come sempre a domani alle ore 7 buona giornata grazie a tutti